Ciao a tutti da Al Socorratore, grandissima sorpresa, mi trovo qui con un bravissimo maestro, abbiamo qui Pedigre Odierna, ecco qui, hai fatto una musica fantastica, una colonna sonora, la settima onda, che emozioni hai avuto e ti ha trasmesso? Ma incredibili, ho avuto la fortuna di leggere prima la sceneggiatura che mi ha emozionato, quindi ho detto questo è un frugio che voglio fare nelle mie corde, quindi ho detto va bene, va bene, non facciamo. Al Socorratore è stato contentissimo, perciò adesso ricordiamo tutti quanti la settima onda dal 24 maggio e la musica del maestro Pedigre Odierna, ecco salutiamo tutti i tuoi fan che ti seguono e che cominceranno a seguirti, assolutamente, il 24 al cinema non si scusa, ecco, ciao, ricordiamo su Facebook dove ti trovano? Pedigre Odierna, perfetto, perciò non potete sbagliare, di nuovo da Salvatore e da Pedigre, ciao, ciao.